Si chiude con il pareggio al Via del Mare tra Lecce e Fiorentina, la decima giornata di campionato. Un pareggio che può accontentare entrambe le formazioni con la Viola che dopo due sconfitte consecutive patite contro Atalanta e Lazio dopo tre sconfitte consecutive lontano il Franchi in ordine contro Udinese, Bologna e Atalanta riescono finalmente a strappare un pareggio che mancava addirittura dalla seconda giornata di campionato dallo 0-0 nel più classico derby tutto toscano al Castellani contro l'Empoli di Paolo Zanetti. Dall'altra parte la formazione salentina di Marco Baroni, la formazione neopromossa, riscatta la sconfitta 2-1 patita nel posticipo domenicale della non aggiornata all'Olimpico contro la Roma di José Mourinho tra le polemiche generali per l'espulsione nel corso del primo tempo e poi per il calcio di rigore con il quale la Roma si è riportata e poi ha portato a casa i tre punti grazie alla trasformazione di Paolo Di Bala. Quest'oggi comunque le polemiche non sono mancate, due gol annullati alla Viola nel corso della parte finale del primo tempo entrambi ad Arthur Cabral. L'ex centravant del Basilea è entrato al sesto minuto il primo cambio forzato per Vincenzo Italiano che grazie al successo 5-1 in Europa Conference League contro gli Eats si è portato al secondo posto dietro solamente i turchi del Bajashkir nel gruppo A di Europa Conference League quindi si avvicina la qualificazione per la Viola e dopo la sconfitta roboante lunedì scorso nel posticipo della non aggiornata davanti al proprio pubblico ecco questo è un risultato che almeno porta la Viola in doppia cifra prima del big match che caratterizzerà l'undicesima giornata con l'Inter che farà visita proprio alla Viola quella sarà una partita molto importante per il destino per il futuro prossimo di Vincenzo Italiano che intanto quest'oggi fa sotto nel corso del primo tempo con la zampata davvero bomber di Hassan Sissei e poi però riesce a raddrizzare la situazione grazie al colpo di testa ad inizio di ripresa da parte di Christian Kwame che non segnava dallo scorso 3 settembre dal gol che aveva risposto al guizzo di Arkadiusz Milik nella quinta giornata contro la Juventus di Max Allegri terzo gol stagionale se consideriamo anche l'Europa se consideriamo anche l'Europa Conference Liga è un gol importante che sicuramente dà fiducia all'ex attaccante del Grifone imbeccato al meglio da un positivo Arthur Cabral continua quindi il momento no lì davanti per Luka Jovic con l'infortunio quest'oggi rimane solamente il gol siglato la prima giornata lo scorso 14 agosto contro la Cremonese troppo poco per l'ex attaccante di Real Madrid e Eintranc Francoforte è successo davvero di tutto e di più nel corso del primo tempo dall'infortunio come detto di Jovic alla spizzata di C6 sulla galoppata di Banda al decimo minuto c'è un brivido per la difesa salentina per un errore del duo paschilotto Falcone non sarà l'unico della serata poi passiamo al ventitresimo un altro colpo di testa alato sul fondo sull'altra galoppata questa volta di strefezza ancora Hassan C6, grande protagonista lì davanti strefezza è infermabile per la difesa viola però strozza la conclusione al ventottesimo passiamo al trentottesimo invece sulla cross di Bonaventura che poi sarà comunque pizzicato in posizione di fuorigioco c'è un gravissimo errore difensivo un malinteso clamoroso tra Baschilotto e Vladimir Falcone ne approfitta di testa Arthur Cabral per portare avanti la viola gol annullato dal signor Massimi di Termoli per posizione di offside di fuorigioco da parte di Jack Bonaventura il Lecce passa grazie ad una azione strepitosa di Ioana Gonzalez che fa secco il difensore viola sulla linea praticamente di fondo riesce a prendere a incunearsi all'interno dell'area di rigore per un passaggio filtrante teso per la zampata davvero attaccante, davvero bomber, davvero numero 9 davvero rapace d'aria da parte di Hassan C6 per il vantaggio salentino al quarantaduesimo dalla giocata di Barak al quarantatresimo nasce un possibile euro-gol di tacco da parte di Arthur Cabral il pallone è uscito e quindi secondo gol annullato nella serata per l'ex centravanti della Basilea iniziamo la ripresa con una bella pari davanti da parte di Martinez Quarta il controllo di Nico Gonzalez la sponda per Arthur Cabral che riesce a servire con un bel servizio all'interno dell'area di rigore proprio Cristiano Acquamè grande elevazione ed è un gol perfetto grazie anche all'aiuto della Palo che fa infilare il pallone alle spalle di un incolpevole Vladimiro Falcone la partita cambia nel corso della ripresa dalle tante chance per la formazione di Marco Baroni alle chance per la Viola la Viola che punge con Cabral ancora davvero molto pericoloso l'ex attaccante della Basilea arriviamo poi ad una grande chance ancora per la Viola con la conclusione fuori a da parte di Martinez Quarta palla alta sopra la traversa e poi sul tentativo di Nico Gonzalez con Vladimiro Falcone che alza la palla sopra la traversa nella finale c'è da segnalare l'espulsione in due minuti per doppio giallo da parte di Gallo per la seconda entrata questa volta su Icone che viene steso malamente quasi in procinto dell'area di rigore Lecce che si porta a quota 8 punti in classifica quindi può preparare nel migliore dei modi la trasferta alla Dallara vero scontro salvezza prima di ospitare la Juventus proprio alla Via del Mare come detto invece il big match da non sbagliare per la Viola al Franchi contro l'Inter di Simone Inzaghi ringrazio per l'attenzione lasciate tantissimi like al video iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram noi ci vediamo in un prossimo video ciao 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 ciao